Linea ferroviaria bloccata, disagi e ore di ritardi. L'incendio è divampato sui binari nella zona di San Salvo e Montenero di Bisaccia, sulla tratta Pescara-Termoli. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate per domare il rogo e consentire a RFI di ripristinare la circolazione in mattinata. Coinvolti diversi treni, cinque regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso. Oltre teore di ritardo per due intersiti attivati degli autobus sostitutivi per assicurare i collegamenti e limitare i disagi ai viaggiatori. Sono in corso anche le indagini per risalire alle cause dell'incendio e sopralluoghi per verificare la presenza di eventuali focolai. Sul posto i tecnici di rete ferroviaria italiana per i controlli necessari alle infrastrutture. Diversi roghi divampati nei giorni scorsi anche nella zona di Petacciato, dove le fiamme hanno investito i capannoni dell'azienda Di Vaira. I controlli dei Vigili del Fuoco continuano in tutto il Basso Molise. Grazie. Grazie.